Fides Montevarchi 92, Andy Sfalti a Iano 85, vince meritatamente la squadra di coach Paludi contro la squadra di coach Tommaso Mannelli, meritata la vittoria della squadra valdarnese dopo sicuramente una serie di partite che hanno visto in crescita la squadra, capitanata da un sempre più volitivo capitano Sereni, la squadra riesce ad essere attaccata sempre alla partita e stare in gioco, conducendola contro un'aliana che per il tramite di Tommei e di Nieri certo non è Razzoli 10 punti, Zeneli 16, Tommei 31, Neri 15, ma è l'atteggiamento di Tommei che ha permesso sempre di essere attaccati ma vince meritatamente la squadra di Paludi, sono 25 punti di Sereni, Tommaso 21 di Facciolà, 16 di Malatesta, 13 di Bonciani, 9 di Alberto Caponi, insomma la squadra insieme sta girando e sicuramente sono due punti meritati in vista della sosta che permetteranno anche a coach Paludi di ritrovare la sua squadra nel proprio palazzetto perché sì, dalla prossima partita sarà il palazzetto di Montevarchi a ospitare gli allenamenti e le partite della Fides Montevarchi. Per quanto riguarda Liana, Tommei diverte e sicuramente vorrei usare un termine abusato devastante, no, Tommei è un gran giocatore, una mano educatissima, riesce sicuramente a mettere a segno triple anche difficili ma non è bastato perché nella fase difensiva Liana sicuramente non ha saputo contenere le scorribande di Capitan, Sereni sempre più artefice di una riscossa fisico-psicologica della squadra di coach Paludi. E allora in attesa del prossimo turno auguriamo buon basket a tutti, senza però prima di dare il benvenuto e fare tanti auguri a David, il nipotino di coach Paludi. E allora buon basket a tutti!